E la Sveva Lucera ad imporsi nello scontro al vertice del campionato di C-Gold pugliese di pallacanestro, gli uomini di coach Ciociola a punteggio pieno dopo 5 giornate. Al termine di una gara combattuta mandano al tappeto Mola New Basket per 98-94. 5 uomini in doppia cifra per la compagine foggiana con un D.E. top scorer con 35 punti. Prestazione comunque positiva per i bianco-blu capaci di risalire la china nell'ultimo periodo con un Brunetti da 26 punti. La classifica al netto del passo falso continua a sorridere. Mola New Basket infatti si trova al secondo posto a quota 8. Gli stessi della Dinamo Brindisi, Corsara a Vieste. 85-43 il finale con 25 punti di Musa. Tra le inseguitrici resiste anche l'Adriabari che batte la Virtus Mesagne per 77-60. 20 i punti di Rodriguez mentre dall'altra parte della barricata Yanzares con 19 punti a prendersi la scena. Netta l'affermazione della pallacanestro Monteroni che regola la Libertas alta mura per 78-51. Niente da fare invece per la Virtus Molfetta. La cura caro Lillo non ha ancora dato i suoi frutti. La squadra Cadi ha corato per 83-71. Nuova Matteotti trainata da Gatta 26 punti e Paolascas 20 punti. Brown e Caslucas rendono il passivo meno amaro con 43 punti in due. Tutto facile anche per la Valentino Castellaneta che sbanca il parquet del Palassi contro la Juvetrani per 77-49. Da segnalare i 19 punti di Vidakovic. Nel prossimo turno intanto la capolista Lucera attende Monteroni mentre Dinamo Brindisi all'ostacolo Nuova Matteotti. Interessante nei basifondi della classifica la sfida tra Altamura e Mesagne. Nel prossimo turno intanto la capolista Lucera attende Monteroni